In Francia, Nizza si prepara nuove restrizioni legate alla pandemia da coronavirus, mentre il tasso di incidenza è particolarmente alto nella quinta città di Francia, con oltre 700 casi positivi ogni 100.000 abitanti, tre volte la media nazionale. Il governo sta valutando due ipotesi per frenare la diffusione del Covid nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Un coprifuoco più stretto oppure un confinamento duro nei fine settimana. Questa sarebbe una prima volta assoluta nella Francia metropolitana. La seconda opzione sarebbe privilegiata, secondo alcuni. Le città costiere potrebbero essere messe in lockdown per evitare la folla, uno scenario che avrebbe il favore del sindaco di Nizza, Christian Estrosi. I Nizzardi potrebbero dunque aver approfittato della loro ultima domenica di libertà con un clima particolarmente mite. A livello nazionale, venerdì, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato di prendersi da 8 a 10 giorni per decidere se gli attuali vincoli debbano o meno essere allentati o inaspriti. Con un numero relativamente alto di nuovi casi giornalieri e una pressione ospedaliera ancora molto forte, i prossimi giorni saranno dunque decisivi.